Noi abbiamo cominciato nel 2006, mi sembra, e in questi anni si dice ridendo e scherzando abbiamo fatto 103 gare, 103 gare dico ridendo e scherzando come battuta, ma poi ci penso un attimo e dico col cavolo ridendo e scherzando, perché vi assicuro che mantenere continuità, chiedere sacrificio, impegno, perché è veramente faticoso, tutti noi siamo budisti e sappiamo cosa vuol dire arrivare fino alla fine, è veramente faticoso per tutti, però io grazie ad un gruppo incredibile di volontari sono riuscito in tutti questi anni a mantenere la cosa, ci impegniamo anche per il futuro, assolutamente, è un impegno personale, è un impegno della nostra fondazione ed è un impegno di tutti i volontari che mi seguono, che ogni volta si ripropongono per l'anno venire. Grazie ancora, io mi auguro che la nostra presenza sia sempre da esempio e da modello, quindi grazie ancora. Bravi, 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 bravi. Certo, quindi non solo l'impegno sportivo ma anche sociale, grazie a Piede d'Oro siamo riusciti in questi anni a concretizzare progetti che magari sembrano piccoli ma sono grandiosi, l'anno prossimo abbiamo già fatto il preventivo della copertura della Serra e l'impegno nostro è riuscire a dare alle signore partecipanti un prodotto della nostra Serra, grazie a voi. Grazie, bravi, 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 bravi.